Autogold.it, tre prodotti chimici estremamente utili per i camper. Parliamo di chimica di alta qualità Viurt. Il primo è un additivo diesel potente pulitore iniettori CarboClean D. Si immette nel filtro del gasolio, in pochi minuti esegue la totale detergenza degli iniettori recuperando efficienza, prestazioni e bassa fumosità. Il secondo prodotto, CarboPump Sport, è un additivo sempre da immettere nel gasolio, aumenta le prestazioni del camper in termini di accelerazione ripresa in quanto aumenta fortemente il cetano e potenzia il carburante a 360 gradi. Gli effetti sono immediati, quindi il camper immediatamente avrà maggiori prestazioni. Il terzo prodotto utilissimo, un prodotto molto utile, necessario addirittura per i camperisti perché è un prodotto da immettere, da spruzzare nel vano motore e in generale anche nel sottoscocca del veicolo, va ad impedire che topi e roditori vadano a danneggiare i cavi, i fili e i componenti. Grazie.